Tutto troppo facile per il Gela nella sfida davanti al proprio pubblico contro il Paceco. 5-0 il risultato finale. Una vittoria importante e netta per la formazione di casa che torna nuovamente capolista anche se in condominio con Dattiro Noir e San Cataldese. Una domenica perfetta per la squadra di Totò Bruculeri che dopo l'amaro pareggio della settimana scorsa in casa del Camarat è tornata la vittoria in maniera prepotente. In mezzo al campo, nei biancazzurri, è tornato Bonaffini e la luce si è accesa nuovamente. Bravi anche gli under, spesso criticati in trasferta ma che ieri hanno dimostrato di avere i cosiddetti numeri per far bene. Tutti in gol, infatti, i giovanotti schierati dal tecnico di Mazzara. Russo ha aperto le marcature al diciassettesimo, Giannizzotto le è chiuse nel primo tempo al quarantacinquesimo e Scerra nella seconda frazione di gioco al ventesimo. In mezzo le reti del bomber Nassi al ventisesimo del primo tempo e del difensore Goliador Campanaro al decimo della ripresa. Il Paceco non pervenuto. Hanno pesato le essenze di giocatori importanti come il difensore Agate, scolificato, e l'esterno D'Amico. Con D'Aguanno, non al meglio e lasciato infatti in panchina, il tecnico Mazzara è stato costretto per forza di cose a cambiare qualcosa nella sua squadra. Per il capocannoniere del girone, Davide Testa, praticamente nemmeno un tiro in porta. L'unica vera palla-goll pericolosa, giunta dalle parti di Pandolfo, è stata la conclusione di Marino, terminata abbondanamente fuori, al trentasettesimo del primo tempo. Il Gela così continua la sua corsa alla Dottor Jekyll e Mr. Hyde, sta ripante in casa, timido fuori dalle mura amiche. Un rullino di marcia da migliorare che oramai si trascina da inizio stagione. Da cosa dipenda è tutto da capire. Di certo c'è che alcuni uomini in questa squadra non possono di certo mancare. Il capitano Alessandro Boneffini è un leader e quando non c'è lui in mezzo al campo, il Gela fatica. Giovani come Giannizzotto dovrebbero trovare più spazio. La difesa è una garanzia. Pettinato e Russello sono diche insormontabili. Campanaro pure e segna. Russo e giovane e propositivo, e l'assenza di esposito alla fine non si è fatta sentire. Bruculeri, lo aveva detto in settimana, alla fine si è affidato a chi era veramente in forma. E ieri mancava il talentuoso Alma, per lui con ogni probabilità altre due settimane di stop. Insomma, un Gela che più che negli uomini deve migliorare nella testa, nella giusta cattiveria, anche fuori casa.